vi comunico in via ufficiale che la registrazione ha avuto inizio e tra l'altro per quanto riguarda il materiale didattico dovrei essere praticamente arrivato in pari sulle call della parte preventiva ieri sera ho caricato la call della passata settimana devo soltanto girare i link sul Moodle di fatto ci manca soltanto quest'ultimo appuntamento che adesso iniziamo in questo istante a registrare e nei prossimi giorni renderò disponibile poi dovremmo essere in pari per quanto riguarda il materiale didattico delle lezioni che abbiamo tenuto insieme oggi è l'undicesima lezione diciamo che per il periodo natalizio dovremmo essere ufficialmente allineati con tutto il materiale didattico con tutte le call caricate in maniera che chi vuole può iniziare già a fruirne a vedere, a approfondire in funzione poi dell'esame finale parto con la condivisione del mio schermo dovreste vedere le slide mi date solo una conferma per favore si vedono le slide? si si vedono benissimo, grazie mille e riprendiamo da qui allora partiamo con quella che è un'analisi video di un gesto che è correlato poi a un altro fondamentale ci focalizzeremo su quella che è la tecnica di rincorso d'attacco per iniziare a capire alcuni frangenti di quel determinato di quella determinata transizione che gli atleti gestiscono in campo per poi approcciarsi di fatto in maniera corretta, coordinata e soprattutto funzionale ed efficace al gesto dell'attacco stesso vi inizio a mostrare alcuni video sono video della squadra che assisto che seguo li commentiamo insieme cerchiamo di mettere dei puntini per capire nel dettaglio quali sono le specifiche principali che ci interessa conoscere per quanto riguarda il gesto stesso e per quanto poi riguarda di fatto l'inserimento e la fruizione di questa tecnica specifica a sostegno e diciamo a correlazione di poi quella che è la fase di attacco vera e propria in questo caso quindi non focalizziamoci molto sul colpo di attacco quindi sul momento in cui il giocatore va a colpire a schiacciare il pallone sopra il filo della rete ma concentriamoci di più su quella che è la transizione che porta a tale gesto allora partiamo da qui mando soltanto avanti eccoci qua partiamo da questa da questa transizione il giocatore oh rientrato il giocatore ha di fatto tre appoggi speciali che gli permettono di arrivare a impattare il pallone in maniera coordinata la rincorsa parte da fermo i tre appoggi speciali prevedono un passo più diciamo di avvicinamento col piede sinistro in questo caso il giocatore ha già effettuato il primo appoggio ve lo rimostro posizione di stasi un appoggio di avvicinamento sinistro e poi un passo quindi un nuovo appoggio più lungo radente aggressivo al pavimento col destro seguito da un rapido appoggio di chiusura nuovamente col piede sinistro questi tre appoggi saranno quelli che noi chiameremo i passi speciali di avvicinamento della rincorsa d'attacco e caratterizzeranno ogni fase di attacco ora lascio andare un po' di immagini così le riguardiamo insieme sinistro destro sinistro e stacco il primo approccio il primo piede che si muove quindi è il piede sinistro con una diciamo un'ampiezza più breve più accorciata rispetto al secondo che è il passo lungo più importante più aggressivo seguito poi dall'ultimo appoggio di chiusura sinistro destro sinistro l'ultimo passo di chiusura è il passo che dovrebbe arrestare la corsa dell'attaccante e convertire la velocità orizzontale in verticale quindi cambiare la corsa per avanti in propulsione verticale per effettuare lo stacco non è determinante quanti appoggi il giocatore faccia prima di arrivare agli ultimi tre appoggi di passi speciali quindi ogni giocatore ha un suo modo di approcciare la rincorsa d'attacco alcuni aggiungono un appoggio preliminare prima di andare a eseguire gli ultimi tre appoggi quindi il primo appoggio di sinistro più breve e il destro sinistro finale più rapido cioè più lungo radente aggressivo al pavimento il destro e di arresto controllo e conversione della forza orizzontale in forza verticale il sinistro finale questo tipo di approccio è quello che viene applicato dai giocatori destrossi dai giocatori che andranno ad impattare il pallone sopra il filo del nastro con la mano destra nel caso il giocatore fosse mancino i piedi sono invertiti quindi avremo un primo appoggio più breve col piede destro un appoggio più lungo aggressivo radente al pavimento di sinistro e un passo di chiusura col destro per poi andare a colpire il pallone con la mano sinistra quest'anno non ho giocatori mancini quindi non ho la possibilità di mostrarvi la rincorsa però diciamo che cercherò magari delle immagini eventualmente da mostrarvi anche nelle prossime lezioni di un giocatore che ha una rincorsa significativa da mancino per capire eventualmente quali possano essere le differenze ma di fatto è soltanto un'inversione un'inversione degli appoggi della sequenza di appoggi dei tre passi speciali e quello che poi ovviamente la mano con cui andrà a impattare il pallone sopra il filo della rete ora come si diceva i giocatori hanno alcune differenze nell'approccio a quest'ultime tre a questi ultimi tre passi speciali c'è chi effettua un passo preliminare c'è chi parte perfettamente da fermo quindi c'è chi approccia con un appoggio aggiuntivo preliminare quindi gli appoggi diventano quattro sempre un appoggio d'avvicinamento però la sostanza è che gli ultimi tre appoggi sono quelli significativi per la conversione dalla forza in linea orizzontale in stacco per poter ovviamente colpire il pallone nel punto più alto possibile ed essere più efficienti possibili nella fase di attacco del pallone stesso sopra il filone della rete il passo di approccio di destra quindi il passo più lungo allora per standard parleremo sempre di giocatori destrorsi quindi ogni volta che parlerò di appoggio di destra intendo dire il secondo dei tre appoggi finali dei passi speciali è quello che andrà a indirizzare l'attaccante nella direzione del pallone alzato palleggiato dal nostro alzatore dal nostro palleggiatore quindi è quello che indirizza la rincorsa quindi proietta l'attaccante nella direzione del pallone quindi se il pallone sarà più corto orizzontalmente parlando sul filone della rete il passo destro sarà di taglio all'interno del campo l'ultimo step è quello che frena la corsa e proietta la la transizione da orizzontale verso il verticale quindi se dobbiamo dare tre aspetti specifici per diciamo per rispettivamente per i tre appoggi speciali possiamo dire che il primo appoggio è uno è un passo di avvicinamento è più corto ed è diciamo per avviare avviare e invertire la condizione dalla condizione diciamo di stasi del corpo dell'attaccante a una condizione dinamica per aumentare l'inerzia di ingresso il secondo appoggio destro è un appoggio più radente alla linea del pavimento è l'appoggio più lungo è l'appoggio più aggressivo più simile se vogliamo quasi a un balzo anche se in realtà è molto radente alla alla linea del pavimento viaggia parallela alla linea del pavimento l'ultimo appoggio nuovamente breve è quello che arresta la corsa orizzontale del nostro attaccante e lo proietta verso una proiezione di stacco quindi lo proietta da una componente orizzontale della forza a una verticale questi sono diciamo i fondamentali di una rincorsa classica poi esiste un'altra formula di corso diciamo di rincorsa d'attacco per alcune condizioni che sono speciali è una rincorsa caratterizzante la pallavolo femminile ed è normalmente diciamo attuata dai centrali per alcuni giochi per alcuni schemi di attacco che adesso andiamo a vedere nello specifico e ha una variante di quello che è il diciamo la rincorsa quindi il gesto specifico dei passi speciali che approcciano alla rincorsa di attacco e lo vediamo in questa in queste immagini molto più simile a un terzo tempo vedete cosa succede cosa fa il giocatore approccia con un passo d'avvicinamento più breve il giocatore parte passo breve di sinistro passo breve di destra stacco in lungo di sinistro per poi proiettarsi ad attaccare lo rivediamo di nuovo passo breve di destra passo lungo di sinistro e proiettarsi ad attaccare ve lo mostro ancora una volta a velocità normale molto più simile a un terzo tempo nel basket lo stacco ad un piede vedete come invece di saltare a due appoggi prevede lo stacco ad un unico appoggio molto più simile a una fase di corsa e proietta con un passo più lungo di sinistra sull'appoggio finale quindi già eseguito il primo appoggio in questo caso vediamolo di nuovo a partenza da fermo destro sinistro e vado sopra questa tecnica è una tecnica propria della pallavolo femminile molto meno utilizzata nella pallavolo maschile e appunto la tecnica di stacco ad un piede di fatto inverte le distanze di quelli che sono gli appoggi quindi l'appoggio più lungo come avete visto non è più l'appoggio di destra per un giocatore destroso ma è un appoggio di sinistra e prevede lo stacco ad un piede rispetto che allo stacco canonico con i due appoggi finali quindi cose da sapere i passi speciali e conoscere gli appoggi che li caratterizzano la prima parte della nostra spiegazione odierna il passo l'esistenza la caratterizzazione e quali sono le caratteristiche di quella che la rincorsa che viene chiamata la rincorsa di fast normalmente attuata dai centrali quindi i passi speciali con lo stacco ad un piede conoscerne più o meno la differenza e le caratteristiche quindi conoscere il fatto che il passo in lungo non è più per un giocatore destroso col piede destro ma col piede sinistro e che lo stacco avviene ad un piede rispetto che ai due canonici e queste sono le caratteristiche fondamentali delle rincorse d'attacco ricordatevi che generalmente la rincorsa di fast è propria della divisione femminile per motivi tecnici che non è non sono neanche di così grande interesse comunque sono legati alla fisicità degli uomini e a motivi di tipo tattico se vogliamo per quanto riguarda l'attacco della rete e a questo punto abbiamo questa peculiarità per quanto riguarda la rincorsa ad un piede allo stacco ad un piede per quanto riguarda soltanto i centrali generalmente caratterizzanti quindi generalmente significa che nella media sono i giocatori che fanno quel ruolo lì che attuano questo tipo di tecnica ed è propria generalmente quindi come al solito nella media della divisione femminile pochissimi uomini mettono in atto quel tipo di tecnica perché? perché tatticamente e fisicamente non ne hanno esigenza ora ritorniamo su quella che è la tecnica classica la prima che abbiamo visto quella è la tecnica peculiare di ogni fase di attacco sia che l'attacco provenga diciamo dalla da qualsiasi zona del campo quindi in questo momento togliamo per un attimo la rincorsa con lo stacco ad un piede di fast che abbiamo visto nelle ultime immagini la rincorsa classica con i tre appoggi e lo stacco finale è caratterizzante qualsiasi zona di attacco e qualsiasi ritmo di attacco per ogni giocatore tra poco vi mostro che cosa intendo intendo dire comunque generalmente che non è non cambia mai l'approccio dell'attaccante in termini tecnici quindi la gestione dei passi cambia soltanto il momento di partenza in funzione dell'altezza dello schema quindi in funzione se la palla gestita dal palleggiatore è più bassa per schema quindi discriminatamente più bassa la partenza sarà anticipata della rincorsa dei tre appoggi d'attacco ma non ci saranno variazioni di rilievo soltanto il momento in cui avviano l'atleta avvia la proiezione della sua rincorsa quindi i passi restano sempre quelli indipendentemente dal ruolo indipendentemente dalla zona in cui vengono applicati cambia il momento di partenza in funzione di quella che è la gestione dell'altezza dell'alzata del palleggiatore vediamo ancora qualche esempio per completare il discorso e guardate ora qualche attacco dall'altra parte diciamo verso posto 4 o posto 3 vedete che abbiamo diverse alzate abbiamo appena assistito ad un'alzata dove il pallone è molto vicino al nastro della rete oppure abbiamo alzate che sono più alte più laterali in funzione del diverso ruolo il giocatore che ha appena attaccato attaccato da posto 4 ormai sappiamo qual è la zona del campo un nuovo attacco da posto 4 stessa rincorsa riconoscerete i passi con la tecnica classica di approccio quindi col sinistro destro sinistro finale ora vedete guardate l'altezza del pallone sopra la linea del nastro e questo attaccante che anticipa la sua rincorsa quindi abbiamo la stessa tecnica cambia al momento di partenza dopo tra poco vedremo nel dettaglio questa differenziazione metto ancora l'accento su un altro aspetto su quella che è la provenienza del pallone nel video preliminare con cui abbiamo aperto la lezione abbiamo visto il pallone andare verso posto 2 quindi l'attaccante riceveva l'alzata palleggiata dal palleggiatore dall'alzatore con il pallone che proveniva da sinistra in questo caso l'alzata proviene da destra vedete che l'attaccante sviluppa la sua rincorsa d'attacco e impatta il pallone che proviene da destra questo principio viene definito come attacco di mano e attacco contro mano allora qual è la differenza tra l'attacco di mano e l'attacco contro mano intanto questa definizione è una definizione del tutto arbitraria definita dai tecnici della pallavolo quindi si chiama così perché è stata arbitrariamente definita in questa maniera l'attacco di mano è l'attacco in cui il giocatore colpisce il pallone prima prima che entri nel suo campo visivo quindi l'attacco di mano se parliamo di un giocatore destroso ha la provenienza da destra il pallone proviene da destra e viene impattato col braccio destro prima che passi all'interno del campo visivo l'attacco contro mano per un giocatore destroso ha la provenienza del pallone da sinistra e il pallone deve attraversare il campo visivo dell'attaccante stesso che esercita il colpo d'attacco dopo che il pallone è passato davanti a tutta la sua linea del corpo questa è la definizione di attacco di mano e attacco contro mano quindi abbiamo detto attacco di mano per un destroso significa che il pallone arriva da destra e non passa nel campo visivo attacco contro mano è l'esatto opposto pallone che arriva da sinistra e passa nel campo visivo ora vi faccio una domanda per capire se mi avete seguito se parliamo di attacco di mano per un giocatore destroso andrà chiede se tecnicamente è più difficile uno rispetto all'altro e diciamo soggetto dipendente ci sono dei giocatori che attaccano meglio il pallone che proviene diciamo contro mano e ci sono dei giocatori che attaccano meglio il pallone che arriva di mano quindi significa che ci sono giocatori che attaccano meglio il pallone che non passa nel campo visivo o che ci passa è del tutto soggettiva la caratteristica e in base a questa caratteristica normalmente viene definito il ruolo dell'attaccante in particolare dei laterali prego se parliamo di un laterale quindi un laterale destrorso qual è l'attacco di mano in che zona del campo viene alzato il pallone che verrà attaccato di mano per un attaccante destrorso sul laterale abbiamo detto quindi l'attaccante attacca dalla zona laterale e destro qual è la zona del campo zona 4 molto bene quindi ovviamente se giochiamo contro mano sarà su un laterale posto 2 perché il pallone passa davanti controprova se l'attaccante è mancino qual è la zona in cui attacca di mano se l'attaccante è mancino quindi l'attaccante corretto Silvia l'attaccante mancino attacca di mano da posto 2 perché perché il pallone non passa cioè deve passare cioè scusatemi se l'attaccante è di mano ed è mancino il pallone non passa nel campo visivo questa è una nozione tecnica che dovete possedere e potrebbe essere anche oggetto di domanda d'esame molte volte fate attenzione perché anche se vi doveste documentare o guardare magari una partita a titolo diciamo di studio della materia molte volte viene definito attaccante di mano indiscriminatamente se come attaccante da posto 4 e attaccante contro mano attaccante da posto 2 indipendentemente dalla mano di impatto questo perché perché i giocatori mediamente sono in maggioranza destrorsi e allora si tende a generalizzare la situazione però tecnicamente questa è la discriminante passa nel campo o non passa nel campo visivo benissimo smarcata anche questa questa idea dell'attaccante di mano contro mano ci focalizziamo sul tempo quindi abbiamo di questo allora l'esigenza di avere schemi di attacco nasce per motivi agonistici fondamentalmente quindi cosa significa più io riesco essere imprevedibile sulla mia velocità di palla sul punto di impatto del pallone più è probabile che possa cogliere la squadra avversaria disorganizzata nella fase che viene definita di muro difesa quindi di fatto variare velocità dell'altezza dell'altezza noi chiamiamo velocità del pallone ma in realtà cambiamo l'altezza dell'alzata del pallone e cambiare i punti quindi i punti rete in cui il pallone viene colpito determina un carnet di possibilità che la mia squadra può mettere in opera per attaccare il campo avversario queste varianti di questi due parametri che sono parametro punto rete e parametro altezza del pallone ci permettono di avere diverse soluzioni di essere meno come dire leggibili si dice meno canonici meno prevedibili nell'organizzazione della nostra fase d'attacco non è però in funzione della altezza del pallone che cambia la tecnica di approccio i giocatori approcciano con la rincorsa sempre nella stessa maniera quindi tecnicamente come l'abbiamo vista e vista con i tre appoggi finali come al solito non cambia quella tecnica di rincorsa cambia il momento in cui il giocatore si propone cambia il momento in cui il giocatore parte in funzione dell'altezza del pallone stesso vi mostro alcune immagini per esplicitare meglio il concetto vabbè allora intanto prima di vabbè facciamo prima proseguiamo su questo poi recuperiamo la parte della didattica per capire come si sviluppa e come si costruisce di fatto il gesto allora in questo video viene mostrato vengono mostrate alcune varianti di altezze di palla differenti posizioni quindi punti rete di attacco differenti e tecniche diciamo momenti di rincorsa che partono in momenti differenti partiamo da questo primo colpo la palla è abbastanza bassa sul nastro della rete e guardate cosa succede in questo momento il pallone non è ancora neanche arrivato nelle mani del palleggiatore e il giocatore sta già ha già di fatto effettuato il primo appoggio di sinistro sta ultimando l'appoggio col piede destro lungo aggressivo e sta arrestando in questo momento in cui ha già concluso la rincorsa d'attacco il pallone sta per uscire dalle mani del suo palleggiatore questo frangente gli permette di andare di trovarsi pronto nella condizione verticale di aver già effettuato il salto per poter attaccare il pallone lo rivediamo in via fluida pallone molto molto veloce molto veloce inteso come molto basso sul nastro della rete e anticipo del momento di partenza in funzione dell'alzata anche in questa seconda opzione vedete come il pallone è nelle mani del palleggiatore non è ancora uscito ma l'attaccante ha già concluso la fase di rincorsa stesso ritmo cambierà l'impegno del palleggiatore nel far per giungere la palla alla stessa velocità in un punto più distante guardiamo cosa succede sulla fase laterale in questo caso il pallone sta per uscire dalle mani del palleggiatore vedete che però cosa succede l'attaccante sta ancora producendosi appena diciamo effettuato il suo appoggio di sinistra uscendo dal campo e sta per proiettarsi col passo lungo di destra il pallone sta uscendo dal palleggiatore l'attaccante termina la sua fase di rincorsa e si prepara a colpirlo vedete chiaramente che in questo caso il palleggiatore ha già finito il suo lavoro ha già rilasciato il pallone l'attaccante che prima nelle versioni prima nei tempi prima molto più anticipati aveva già finito la sua rincorsa una volta che il pallone era ancora nelle mani del palleggiatore in questo caso è più rallentato nella sua condizione di lavoro e ritarda il momento in cui effettua gli ultimi due appoggi dei passi speciali lo rivediamo in via fluida giochi dietro ad un piede qui vedete lo stacco ad un piede col piede sinistro stessa velocità di palla sempre però su una condizione leggermente più distante la cosa più importante da capire è che anche in questo caso indipendentemente indipendentemente dalla tecnica di rincorsa la tecnica di approccio quindi i passi speciali che utilizzo sia che si parli di stacco a due piedi sia che si parli di stacco ad un piede non cambiano mai cambia il momento in cui parto parto per arrivare a ritmo sulla sulla palla ovviamente ovviamente nel senso abbiamo visto nelle immagini come se la palla deve fare più distanza io dovrò avere un ritmo di partenza ritardato dovrò aspettare dovrò temporeggiare per avviare i miei tre passi speciali che mi permettono di arrivare perfettamente a ritmo su quella che il momento in cui su quello che il momento in cui la palla nel momento in cui la palla pergiunge diciamo nella mia zona di competenza nella mia zona di influenza nel momento in cui io posso colpire il pallone stesso dovrò trovarmi pronto ed aver già effettuato i miei due appoggi gli ultimi miei due appoggi della rincorsa per essere all'apice della mia verticalizzazione del stacco del salto quindi in funzione di qual è il punto rete dell'altezza del pallone stesso dovrò anticipare o ritardare il momento di avvio della mia fase di rincorsa questa cosa apre diciamo alcune condizioni da dover monitorare e cerchiamo di ragionare un pochino su quelle che sono le immagini che abbiamo visto analizzandole diciamo sotto un profilo un po' più tecnico da tecnici delle scienze motorie secondo voi qual è tecnicamente parlando il gesto che richiede maggior di quelli che abbiamo appena visto richiede maggior sincronia tra i due atleti chiamati in causa quindi qual è lo schema d'attacco dove attaccante e palleggiatore tra quelli che abbiamo appena visto hanno bisogno di una maggiore intesa devono essere più sincronizzati tra di loro devono essere più precisi sia nel momento della partenza sia nel momento in cui diciamo che il palleggiatore stesso abbia la giusta sensibilità di lasciare il pallone all'altezza giusta qual è secondo voi quello che richiede maggior sincronia tra i due attaccanti vediamo un po' la palla più veloce o la palla laterale palla veloce altri palla più veloce siamo abbastanza indirizzati schierati sul punto di vista della palla rapida ed è corretto dal punto di vista della sincronia la palla più veloce quindi dell'intesa tra i due attaccanti magari anche nelle vostre riminescenze tecniche di qualche volta che magari avete giocato seppur magari anche in maniera non troppo organizzata sapete che probabilmente è più complicato giocare quel tipo di pallone perché occorre una certa coordinazione dei movimenti da parte dei due giocatori una certa sincronia da parte dei due giocatori che hanno quel compito di trovare un giusto ritmo tra i due gesti i due gesti inteso come rincorso e attacco per chi andrà a proiettarsi nella fase di schiacciata e spinta alzata palleggio alla quota corretta per il palleggiatore per l'alzatore però se parliamo unicamente del dell'attaccante quindi in questo momento focalizziamoci soltanto sull'attaccante secondo secondo voi è più difficile sincronizzare prendere il tempo capire il momento giusto in cui avviare la rincorsa sull'attacco veloce o sull'attacco al laterale quindi sulla palla più diciamo distante quella che abbiamo visto attaccare da posto 4 quella più in cui il pallone fa più strada è più difficile ripeto soltanto in analisi per l'attaccante prendere il tempo sulla palla più bassa o sulla palla più alta più distante ditemi un po' qualcosa riformulo ancora più tecnicamente coordinativamente complesso attaccare la palla più distante o più vicino laterale 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 e se vi chiedessi il perché secondo voi è più complesso perché è più difficile secondo voi in teoria ho più tempo no? devo compiere più rincorsa più o meno abbiamo detto che la rincorsa è sempre quella è la palla che cambia la sua proiezione di traiettoria ok 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 il computo attenzione a come a come ci esprimiamo perché devo devo calcolare bene l'altezza della palla e adeguare la partenza della rincorsa tutto giusto se però io ho capito cosa state intendendo voi però tenete in considerazione tenete in considerazione che il tempo avete ragione nel senso che quando lavoro sulla palla veloce io so già che devo partire prima cioè appena lancio il pallone appena il pallone sta andando nelle mani del mio palleggiatore io dovrò partire anticipare perché so già che nel momento in cui il pallone arriva nelle mani del mio alzatore io dovrò aver già finito la mia rincorsa ad attacco quindi attenzione a quello che è la terminologia che state utilizzando io ho capito che cosa volete intendere credo però quello che varia quello che varia non è tanto il io devo comunque adeguare la mia partenza la devo in un caso della palla veloce accelerazione che avete la finestra per poterla colpire anche stiamo andando già più più stai andando veramente già nel molto tecnico Andrea molto più semplicistico molto più da campo dicevamo io mi devo adeguare al punto di partenza a ritmo uno sarà più veloce e uno sarà più tardivo uno sarà più rapido anticipato l'altro sarà più temporeggiato e ritardato sui due diversi tipi di colpi tecnicamente mi si riduce la problematica di errore perché perché probabilmente quando vado ad attaccare il primo tempo io so già che devo andare devo essere la prima cosa che faccio è appena lanciato parto quindi io sono dipendente dal momento in cui avvio il mio t0 di rincorsa il mio tempo di rincorsa il mio ritmo di rincorsa il t0 invece sulla rincorsa del laterale è un t0 che dipende da quando il pallone sta viaggiando sulla traiettoria ma la cosa che poi è più importante da sottolineare è che se una palla veloce ha di fatto un'unica dimensionalità di traiettoria quindi solo una traiettoria verticale sulla palla laterale oltre a una traiettoria di tipo verticale o una traiettoria di tipo orizzontale da dover calcolare quindi l'attaccante che si proietta su un attacco da posto 4 da posto 2 quindi diciamo sulle ali sulle aste del campo da gioco dovrà per forza tenere in considerazione non soltanto la componente verticale quindi l'altezza del pallone ma anche la parabola la profondità la se vogliamo anche la la componente orizzontale se il pallone arriva da più vicino arriva da più lontano questo perché perché sono tutti i fattori che incidono sul momento in cui io devo partire con la rincorsa perché perché la rincorsa abbiamo detto è sempre quella quindi ci metto sempre quel tempo lì se cambio le parabole dovrò settare settare ogni volta in maniera corretta il tempo di partenza questo è chiaramente il motivo per cui ho più difficoltà diciamo a calcolare i tempi lo spazio tempo di transizione del pallone sul filo della rete per partire in maniera sincrona per partire in maniera corretta ad iniziare il gesto di approccio perché abbiamo già detto che il gesto di approccio è sempre quello quindi io ci devo mettere sempre quella velocità lì se faccio bene i miei tre passi speciali quindi per tirare le file di questa parte la intesa la sincronia tra palleggiatore e attaccante è più complessa sulle palle rapide veloci anche se hanno un'unica dimensionalità hanno soltanto una traiettoria di tipo verticale la sincronia quindi la richiesta diciamo di coordinativa sotto il punto di vista dell'attaccante in particolare dell'attaccante laterale e di più alto livello a livello personale perché i fattori che intervengono sulla traiettoria del pallone sono di più oltre a avere una traiettoria verticale avrò una proiezione di tipo orizzontale e io devo tenerne conto devo tenerne conto perché perché io dovrei sempre fare la stessa velocità di ingresso la stessa velocità di rincorsa e colpire il pallone sempre nel punto più alto perché in teoria devo colpire il pallone alla quota maggiore possibile per avere più spazio sopra il filo della rete e poter avere un attacco ad angolo più incidente nel campo avversario questo è il punto vediamo ora come generalmente questa questa componente di tipo tecnico viene allenata e cerchiamo di capire quali insomma diciamo sono le eventuali problematiche della didattica per trovare poi un rapporto coordinativo in particolare su quelli che sono i tre appoggi finali vi mostro alcune immagini di allenamenti delle nostre giovanili allora vedete cosa succede per far sentire il ritmo diverso e l'accelerazione alle nostre piccole atlete l'allenatore decide di dire di concentrarsi unicamente sugli ultimi due appoggi quindi con una partenza monopodalica in questo caso di fatto le nostre ragazzine come se avessero già effettuato il primo appoggio dei nostri tre quello di avvicinamento quello che fa variare diciamo la condizione dalla condizione di fermo di stasi del corpo a una prima accelerazione passettino per avanti e poi passo lungo di destra vedete già che qualcuno ha dei passi più lunghi e più aggressivi altri hanno dei passi un po' più compassati e più brevi però l'idea è quella di iniziare ad imparare questo tipo di approccio quindi questo tipo di variante di ampiezze diverse dei tre appoggi e velocità di approccio importante si tende sempre a avere le spalle leggermente in diagonale sopra la linea della rete quindi io non arrivo mai parallelo non dovrei quasi mai arrivare parallelo alla linea della rete sempre leggermente in diagonale questo perché per favorire l'impatto del pallone stesso non soltanto a carico del braccio della spalla ma poter esercitare forza anche col treno superiore con il corpo con gli addominali il core e tutta la catena che fa flettere e interruotare il corpo per avanti questo ovviamente permette di applicare maggior impatto sul pallone stesso e esercitare maggiore forza ora nel momento in cui noi approcciamo alla agli ultimi due appoggi quindi al destro lungo e al sinistro breve se gli appoggi sono condotti in maniera diciamo più canonica quindi l'arrivo è leggermente spaiato non sono perfettamente appaiati sulla stessa riga ma leggermente sfalsati questo arrivo permette di facilitare quella fase di caricamento quindi di applicazione di forza anche delle catene che intraruotano il tronco arrivare arrivare con i piedi pari uniti peggiora quella condizione quindi generalmente una delle cose che si cerca subito di instaurare in maniera corretta è l'arrivo con la diagonalità delle spalle rispetto alla linea del nastro e con i piedi leggermente spaiati per questi motivi per poi ritrovarci più avanti ad avere già instaurato un certo tipo di biomeccanica del gesto corretta e qui sullo sviluppo andiamo invece più a concentrarci su quelle che sono invece le transizioni di un gioco dal laterale vedete cosa succede in prima istanza la prima cosa che si richiede è quella di uscire dal campo immaginate che questa linea bianca sia la linea laterale del campo l'uscita laterale è richiesta per favorire la condizione di diagonalità delle spalle sulla linea della rete quello che ci siamo appena detti il laterale ha diciamo avendo maggior tempo perché la traiettoria come abbiamo visto del pallone effettua una fase di volo più lunga si favorisce la fase di approccio di attacco allargandosi al di fuori del campo da gioco quindi c'è una fase di transizione e poi parte la fase di rincorsa vera e propria la rincorsa poi diciamo oltre il cinesino il secondo cinesino giallo posto alla sinistra delle giovani atlete è poi quella che abbiamo già visto più volte quindi quella con l'approccio e il destro sinistro finale in lungo questo perché i giocatori sono tutti destrorsi avete già anche magari notato che alcune hanno una rincorsa più differenziata nei tre appoggi guardate questi tre appoggi qui sinistro breve destro sinistro più lungo guardate invece qui quest'ultima rincorsa sinistro destro sinistro gli appoggi sono coordinati e sono giusti ma il ritmo non è corretto perché perché il secondo appoggio dovrebbe essere quello cioè il destro dovrebbe essere più lungo e più accelerato ovviamente tutto questo è un discorso di poco coordinativo che in fase giovanile è un po' più complesso da costruire quindi in ordine di priorità si cerca di costruire l'arrivo coordinato agli ultimi due appoggi una volta costruita e stabilizzata questa diciamo questa skills si fa il vero e proprio ritmo cercando di cambiare le distanze dei piedi cambiare la velocità di appoggio dei piedi cambiare quelle che sono poi le componenti che caratterizzano in maniera più o meno importante i vari appoggi che sono peculiari dei passi speciali di rincorsa quindi cosa importante il giocatore dovrebbe sempre arrivare con le spalle leggermente in diagonale sulla linea della rete se lavoriamo dal laterale abbiamo una condizione che viene favorita per il tempo di volo dalla rincorsa stessa quindi cerchiamo di allargarci ed uscire dal campo ovviamente per chi lavora sui giochi veloci quindi in particolare nei ruoli centrali questa condizione può essere soddisfatta fino a un certo punto perché la mia partenza sulla fase di rincorsa è talmente anticipata che spesse volte non mi permette di allargarmi leggermente di avere la possibilità di avere l'ultimo appoggio con il piede destro diciamo col piede sinistro leggermente anteposto rispetto al destro questa è una condizione che aiuta per favorire l'impatto del pallone stesso ed è caratterizzante appunto i vari le varie rincorse scusatemi i vari ritmi di ingresso degli attaccanti per quanto riguarda la parte puramente tecnica questo è quello che ci deve competere nel senso dobbiamo conoscere le caratteristiche dobbiamo imparare ed essere coordinati nel gestirle perché potrebbero essere parte di quella prova pratica di cui abbiamo lungamente parlato quindi dobbiamo essere in grado di mostrare una rincorsa e per quanto riguarda invece il ritmo di ingresso quella parte lì è una parte che sarà puramente teorica e dobbiamo soltanto ricordarci qual è coordinativamente parlando il discorso che ci siamo fatti precedentemente quindi su quelle che sono le sincronie tra palleggiatore attaccante e diciamo la capacità di lettura della traiettoria del laterale come componenti coordinative più o meno complesse quindi se parliamo di una palla veloce con un ritmo più rapido abbiamo un discorso di tra l'altro vengono caratterizzati i palloni come altezza con primo secondo terzo tempo in funzione alla velocità dell'altezza stessa del pallone d'attacco quindi abbiamo detto sincronia tra i due componenti di gioco quindi il palleggiatore e l'attaccante su primo tempo quindi palla più veloce abbiamo una richiesta coordinativa di sincronizzazione tra le due parti in causa maggiore rispetto a quelle che sono secondo e terzo tempo quindi la palla più ampia più alta sopra il filo della rete che ha una richiesta coordinativa maggiore soltanto per l'attaccante laterale che dovrà prendere il tempo perché perché c'è una componente sia verticale sia orizzontale nel momento in cui io arrivo l'attaccante arriva ad impattare il pallone dovrebbe esserci sempre un certo tipo di diagonalità delle spalle rispetto alla linea della rete questo per favorire la biomeccanica dell'impatto ora ci facciamo una rapida carrellata di quelle che possono essere le opzioni di attacco questi sono alcuni diciamo i punti di attacco della rete base del livello base abbiamo una palla in 4 posto del campo del gioco una palla in posto 2 e una palla in posto 3 che ha una traiettoria non eccessivamente veloce non eccessivamente bassa sempre abbastanza morbida come ve l'ho disegnata e caratterizza quello che viene definito un attacco di secondo tempo quindi palla veloce attacco di primo tempo palla mezza attacco di secondo tempo palla alta attacco di terzo tempo abbiamo poi una nomenclatura che viene anche qui in via del tutto arbitraria generalmente caratterizzata da quelle che sono i nostri di quelli che sono gli allenatori della pallavolo generalmente che caratterizzano con numeri dispari i palloni che sono davanti al palleggiatore quindi il palleggiatore lancia il pallone davanti alle sue spalle i numeri che caratterizzano i vari schemi di gioco sono numeri generalmente dispari e il palleggiatore lancia il pallone dietro le sue spalle i numeri sono generalmente pari questo è un quelli che sono i punti di attacco della rete a livello base se procediamo esistono altri punti abbiamo alcuni diciamo punti che vengono caratterizzati con traiettori più incidenti più rapide più basse sul filone della rete che sono normalmente a carico del centrale che sono la 1 e la 7 in questo caso numeri dispari perché sono per avanti abbiamo la 2 che è una palla bassa sempre a carico dei nostri centrali i centrali per definizione si prendono carico degli attacchi nel cuore della rete nel punto medio della rete con ritmi di alzata rapidi normalmente primi tempi quindi palle veloci abbiamo poi delle uscite laterali che generalmente vengono chiamate super e quick in funzione se viene data per avanti o per dietro e non è nient'altro che l'equivalente della 5 e della 6 ma con una traiettoria che viene chiamata di secondo tempo quindi è una palla che ha una traiettoria più incidente sul filo della rete però arriva in posto 4 e in posto 2 abbiamo poi degli attaccanti degli attacchi che arrivano dalla seconda linea che viene questa generalmente definita come pipe e questa viene chiamata con un numero pari definendolo zero come numero pari posteriore alla linea del palleggiatore sempre con l'attaccante che proviene da posto 1 zero e la pipe seconda linea ricordandovi che per attaccare da posto 1 posto 6 o posto 5 dovrò staccare prima di quella che è la linea dei 3 metri esistono ancora altri schemi ancora più evoluti ancora più evoluti perché hanno dei punti rete sempre più diciamo caratterizzanti e dei punti rete in cui con punto rete intendo dire il punto in cui il pallone arriva nella sua traiettoria nella zona della rete rispetto al palleggiatore e velocità sempre diverse abbiamo quindi ancora una 9 gioco davanti caratterizzante laterale una c e una b che sono giochi caratterizzanti i centrali abbiamo abbiamo visto l'attacco di fast con la rincorsa speciale caratterizzante in particolare la divisione femminile e poi abbiamo altri schemi sempre della seconda linea che vengono caratterizzati con i nomi che vedete scritti in zone differenti riepilogone questi sono gli eventuali punti rete in cui si può attaccare uno schema di gioco dalla prima o dalla seconda linea alcuni sono caratterizzati quindi soltanto dalla zona in cui vengono colpiti i palloni altri dall'altezza del pallone alzato sopra la rete tutta questa roba qui molto semplicemente voi dovete conoscerne sapere ovviamente la la nomenclatura e riconoscerla quindi conoscere quali sono le caratteristiche dell'attacco stesso avere un'infarinatura di quelle che sono le le varie diciamo i vari ritmi quindi primo secondo o terzo tempo e sapere ovviamente quali sono attacchi portati dalla prima linea attacchi portati dalla seconda linea per esempio o poi del materiale già pronto e diciamo già creato per la passata stagione accademica dove ci sono una serie di immagini che mostrano proprio questi tipi di attacchi che sono tra l'altro anche divisi tra attacchi dei centrali e attacchi dei laterali guardando bene tutto quanto avete tutti gli strumenti per possedere quello che è la vostra esigenza per fronteggiare poi l'esame finale tutta questa roba resta sempre finalizzata a quella che è l'organizzazione della mia squadra nella fase d'attacco per trarre in diciamo fallo quindi mettere in difficoltà la squadra avversaria se io attacco in tanti punti diversi la rete quindi se io vado a colpire il pallone se io vado a schiacciare il pallone sopra la rete in tanti punti diversi sarò meno prevedibile al muro e alla difesa avversaria vi ricordo che mentre una squadra è impegnata nella fase d'attacco la squadra avversaria è impegnata con i suoi giocatori di prima linea a opporre delle mani a muro quindi più io sono imprevedibile sulla velocità e sulla posizione in cui andrò ad impattare il pallone sopra il fio del nastro più ovviamente la squadra avversaria sarà coinvolta e messa in pressione per organizzare la propria difesa la propria contromossa per contrastare la mia fase di attacco la mia fase di schiacciata puramente definita e capite anche che essendo ogni pallone differente in attacco come punto rete per arrivare a ritmo a livello di sincronia a livello di ritmo comune tra attacco quindi l'attaccante che produce la sua rincorsa e pallone alzato dal palleggiatore la richiesta coordinativa complessiva di sincronia è estremamente elevata tutto ciò quindi è per ricordarvi che ogni attaccante applicando le rincorse in via canonica ha dei ritmi di partenza diversi per ogni schema per ognuno di questi schemi c'è un momento diverso in cui l'attaccante muove il primo appoggio della sua rincorsa d'attacco è diciamo facile capire quanto questo richieda destrezza quanto richieda lavoro sotto il profilo della sincronia quanto richieda applicazione da parte degli interpreti per trovare il giusto ritmo basta direi che questo è quello che mi preme conoscere e sapere cioè mi preme che voi sappiate che voi conosciate che voi possediate per quello che poi è il test finale del nostro compito direi sì per concludere questa nostra diciamo lezione tecnica vi pongo ancora l'accento su due concetti che sono necessari per oggettivare le prestazioni quando noi stiamo diciamo in uno sport di performance la prestazione viene oggettivata dallo sport stesso inteso se corro la maratona ho un tempo di percorrenza e quel tempo di percorrenza fa sì che la mia prestazione sia più o meno di alto livello meno ci metto più sono bravo se faccio il saltatore in alto o il saltatore in lungo più la centimetria si dilata più io sono bravo più sono stato performante se parliamo di lanci getti lancio del giavellotto lancio del peso lancio del disco getto del peso lancio del disco più tiro lontano l'attrezzo che con cui performo più siamo di fronte a una prestazione di alto livello per quanto riguarda gli sport di squadra sì è vero ci sono i punteggi finali perché poi logicamente ci sono degli score finali ma per interpretare e oggettivare la prestazione degli atleti coinvolti si necessita avere altri parametri altri parametri di analisi perché è un po' poco ridurre la prestazione a dire ho vinto i set ho segnato un gol in più ho fatto un canestro in più ci sono altri tipi di esigenze per far sì che ci sia un'analisi un po' più approfondita ad esempio se prendiamo l'esempio appunto del calcio c'è il possesso palla che banalmente è il tempo con cui la mia squadra o la squadra avversaria giostrano le azioni ci sono che ne so i numeri di tiri in porta i numeri di calci d'angolo nella pallacanestro c'è il numero di rimbalzi il numero di stoppate il numero di assist la percentuale al tiro la percentuale suddivisa sui diversi tiri tiro da tre il tiro libero il tiro canonico dal campo questi parametri sono necessari per poter capire quelli che sono gli andamenti delle prestazioni ora per quanto riguarda la pallavolo abbiamo alcuni parametri che sono di interesse il primo parametro di interesse è quello della positività parlando di attacco che cos'è la positività? la positività non è nient'altro che la percentuale matematica dei tiri effettuati dei colpi effettuati in funzione in rapporto con i punti realizzati quindi tanto più incido in termini di punti realizzati e tanto minore saranno i miei tentativi tanto più la positività si alzerà esempio pratico se faccio quattro attacchi e faccio due punti realizziamo il 50% di positività rapporto matematico tra tentativi e punti realizzati altresì se faccio che ne so su dieci attacchi otto punti avrò una positività dell'80% questo questo parametro viene definito in quelle che sono poi delle statistiche che normalmente si presentano in questa condizione ora lasciate perdere se è in piccolo poi ve lo guardate tranquillamente poi nelle slide però qui abbiamo dei termini percentili vedete attacco c'è scritto totale sono i numeri dei tentativi effettuati percentuale dei punti quindi quindi significa che questo giocatore su 23 attacchi ha realizzato 9 punti uguale al 39% di positività ora questo è un primo dato per soppesare la performance di un giocatore ci sono poi alcuni parametri di squadra i parametri di squadra possono essere esempio alcuni di quelli che vi ho evidenziato in quest'altra sottozona questo qui non è nient'altro che uno zoom di un totale della della squadra quindi non è nient'altro questa parte qui non è nient'altro che lo zoom di questa componente delle statistiche e abbiamo per esempio i punti realizzati di squadra in cambio palla in questo caso c'è scritto che ogni 1.57 ricezioni la mia squadra ha realizzato un punto per essere efficienti il parametro di gestione è questo qui dovrei realizzare un punto al di sotto di 1.85 2 barra 2 palloni ricevuti e ho realizzato un break point vi ricordo che il break point è il momento in cui è la mia squadra al servizio ogni 2.47 battute per essere efficienti dovrei realizzare un break ogni 3 palloni per dire tant'è vero infatti che io vedete che sono a 1.57 contro l'1.85 barra 2 quindi sono al di sotto del parametro richiesto in cambio palla quindi quanti punti realizzo sul servizio degli avversari quindi la squadra avversaria imbattuta e quanti punti realizzo nella fase in cui io sono al servizio quindi il break point e dovrei essere al di sotto del 3 e infatti la partita finisce 3 a 0 per la mia squadra sono efficiente per quanto riguarda i parametri e la partita come vedete è abbastanza a senso unico perché vinco 3 a 0 con dei parziali abbastanza netti a 13 a 15 a 16 questa cosa qui è soltanto per dirvi che positività quindi attacco quindi gestione degli schemi che abbiamo visto quindi gestione di quello che è la performance sotto il profilo numerico dei nostri dei nostri atleti gestione di quelle che sono i parametri diciamo quelle che sono le condizioni numeriche facente parte della squadra di interesse ovviamente questi questi parametri qui sono dei parametri medi sono dei parametri che vengono statisticamente calcolati su un alto volume di gare si è visto che se tu hai questo parametro vicino a queste a queste condizioni sei in linea alle performance per poter vincere positività quindi in attacco e parametri correlati ovviamente vanno di pari passo più sono positivo più probabilmente i parametri saranno a mio favore più si alza la condizione per poter vincere le partite quindi positività valore numerico tra quello che è il numero di tentativi e i punti realizzati questo tipo di condizione inficia ovviamente la condizione di squadra quindi se i giocatori più i giocatori più i singoli sono positivi più i valori di squadra sono performanti più i valori di squadra generalmente parametrati sono performanti più si alza la probabilità di vincere molto lineare quei parametri che avete visto segnati con 1.85 barra 2 e 3 in breakpoint sono semplicemente dei parametri di riferimento sono dei valori di riferimento e la stessa cosa dei valori di riferimento degli esami medici mediamente quando ti fai a fare gli esami del sangue ci sono dei parametri di riferimento quei numeri lì sono i numeri medi della popolazione mondiale quelli sono i numeri medi delle statistiche delle gare vinte quelli sono quel prodotto lì non è niente di importante e non dovete saperli non vi preoccupate e soltanto per darvi delle dimostrazioni di correlazione tra quelle che sono positività e performance in realtà però non è tanto quel dato di positività che è calzante ma è il dato dell'efficienza che diventa importante se parliamo di attacco ritorniamo sull'esempio di partenza il mio giocatore ha realizza ha fatto due punti su quattro attacchi positività 50% matematica se invece parliamo di efficienza si va a indagare che cosa è successo negli altri palloni cioè i palloni che non ha fatto punto abbiamo detto due palloni su quattro ha fatto punto ma gli altri due palloni che cosa ne ha fatto ha eseguito un'azione positiva o un'azione negativa per la sua squadra poniamo il caso che i due palloni fuori dal conteggio siano stati degli errori quindi ha fatto due punti 50% di positività ma ha fatto due errori ha regalato due punti alla squadra avversaria l'efficienza in questo caso non è più 50% lui ha 50% di positività di percentuale in attacco ma di efficienza crolla allo 0 perché perché lui ha fatto due punti per la mia squadra e due punti per l'altra squadra efficienza 0 l'efficienza quindi non è nient'altro che lo studio tra quelli che sono i punti realizzati e gli errori commessi quindi la percentuale e il rapporto percentuale tra quelli che sono non più i colpi totali ma la percentuale dei colpi eseguiti e la diciamo l'analisi e il peso dei palloni che non hanno realizzato il punto questo è il parametro dell'efficienza è facile capire che per essere vincente non è tanto la positività quella che conta ma è l'efficienza che deve essere alta quindi non conta soltanto fare punto ma conta anche non avere parametri negativi quindi non incidere negativamente sulle azioni negli altri palloni negli altri tentativi che stai effettuando quindi queste due cose sono da sapere positività rapporto tra numero di tentativi e punti realizzati efficienza rapporto tra l'analisi dei punti realizzati e i punti persi quindi il rapporto tra azioni positive e azioni negative da parte dell'atleta su quel determinato fondamentale quello che più di interesse è l'efficienza per essere vincenti abbiamo bisogno di efficienze alte basta questo è quello che mi premeva farvi passare come concetto a chiusa di quello che è il tema dell'attacco del fondamentale d'attacco in particolare oggi più che altro sui ritmi e sulla rincorsa e poi ci focalizzeremo sull'impatto del pallone più avanti questo è quanto allora ovviamente per chi è dentro il mondo della palladulo sono concetti già conosciuti già diciamo più probabilmente dominati in maniera anche facile per quelli che sono al di fuori del nostro settore risulteranno essere un pochino più diciamo magari richiederanno magari un'attenzione superiore all'approfondimento però spero di aver chiarito e di aver puntualizzato bene quali sono le mie richieste in maniera da potervi farvi focalizzare in maniera più importante su quelle che sono le tematiche che poi saranno oggetto d'esame se non ci sono domande dubbi perplessità attenzione esone eropatico sarà obbligatorio? no non lo sarà obbligatorio è una cosa facoltativa assegna un punto chi vuole farlo lo fa e chi non lo vuole fare non lo fa non è assolutamente vincolante l'obbligatorietà è è una roba che dal mio punto di vista è abbastanza marginale se parliamo della nostra della nostra facoltà è un'opportunità se vuoi lo fai se non lo vuoi non lo fai chi lo fa ha l'opportunità di guadagnare un punto e il fatto di assegnare un punto è perché come vi avevo già detto all'inizio se sai mostrare un gesto in maniera corretta apprezzo intanto il fatto di mettersi in gioco e oltretutto hai uno strumento didattico in più perché puoi mostrare eventualmente da allenatore il gesto corretto ed è uno strumento didattico che va premiato questo è il punto ricordo anche che nel caso in cui uno invia diciamo del tutto arbitraria e personale non voglia fare l'esonero o fare il chiamiamolo laboratorio o quello che sarà chiamiamolo come volete avrà comunque l'opportunità di raggiungere il massimo dei voti per quanto riguarda l'esame conclusivo finale quindi non è che perché hai bisogno di quel punto lì per arrivare a a fare a poter ambire a prendere il massimo dei voti negli giochi sportivi se non ci sono domande dubbi perplessità come da accordi vi libero qualche minuto prima ovviamente resto comunque a disposizione anche nel periodo se qualcuno vuole se ha bisogno di comunicare con me mail tutti diciamo i canali che ormai conoscete per potermi raggiungere sono a disposizione per il resto vi direi vi auguro le mie mi faccio i miei auguri per delle buone feste speriamo di di concludere questo questo anno un po' così un po' particolare e sperando con la speranza di magari poterci vedere in presenza l'anno prossimo non lo so prossima lezione direi che aspettami Beatrice che te lo dico calendario alla mano dovrebbe essere 12 di gennaio 12 di gennaio se ho comunicazioni in merito dalla dalla segreteria vi magari vi mando una mail dicendovi quali saranno le diciamo le disposizioni che ci vengono proposte per poter fare lezioni calendarizzarle se non c'è non ci sono ok questa è una buonissima domanda mi piacerebbe poter fare lezioni in presenza sono onesto al momento non ho aggiornamenti al momento non ho aggiornamenti non ho diciamo che la situazione è sempre attenzionata perché facciamo dei diciamo ci sono un sacco di di analisi a riguardo di questa cosa per quanto riguarda il punto di vista della diciamo della sicurezza fondamentalmente degli impianti e della gestione degli impianti al momento siamo siamo fermi alla condizione da remoto speriamo che si possa muovere qualche cosa anche in funzione di quelle che sono le notizie che giungono in relazione a vaccini situazioni di di emergenza sanitaria che potrebbero essere positive nella gestione della della situazione stessa comunque ci aggiorniamo anche su quel punto di vista lì grazie a te bene allora io vi saluterei vi ringrazio vi auguro buone feste rilassatevi riposatevi studiate un po' ci riaggiorniamo a inizio 2021 buona giornata a tutti buone feste e grazie come al solito per l'attenzione e per la partecipazione arrivederci professore auguri auguri a voi ciao che boone Grazie.